Avete visto un ladro passare di qua? Certo che non l'avete visto! Perché il ladro? Sono io! Mi sembro un imbecile, però sono anche un ladro! Benvenuti nella mia umile dimora! Io sono Lion, il ladro gentiluomo! E benvenuti su Thief Simulator 2! Wow ragazzi! Finalmente è uscito! Thief Simulator 2! E in realtà questo è soltanto il prologo, la parte iniziale del gioco! Ma possiamo già giocare e abbiamo anche già il nostro primo lavoro! Vedete ci hanno messo qui nascosti in questa topaia! Ci sono i raton della laguna che passano sotto, guardate! Che schifo! Però per fortuna ce ne andremo presto da qui! Ci basta semplicemente andare a svolgere due o tre lavoretti per il nostro amico Vladislao! E poi Vladislao ci darà un biglietto di solo andare da per la parte alta della città dove stanno i VIP! Ok? I VIP! Erano con il favore delle tenebre! Noi dobbiamo occuparci della casa numero 202! Che è proprio qui! E se seguivate le mie avventure quando giocavamo a Thief Simulator 1 qualche anno fa ormai, questo gioco vi starà ingrippando, lo so già! Proprio come sta ingrippando a me! 102! La casa della mamma del bue! Entriamo silenziosamente! Ok? Chiudiamo la porta silenziosamente! E adesso iniziamo a muovere passi dentro questo cesso di casa! Dobbiamo fare diverse cose! Allora, dobbiamo distruggere un sacco di oggetti! Ok? Possiamo rubare un oggetto in un cassetto in camera da letto, che a quanto pare è una sorta di bottino! Non so se in casa ci sono delle persone, però, eh! Potrebbe anche essere! Aprire le finestre non possiamo ancora farlo, perché non abbiamo quel genere di abilità raffinata! Però possiamo iniziare a rompere qualche oggettino, perché vedo che ci sono diverse cose da distruggere! A quanto pare il padrone di casa qui deve aver combinato qualcosa che non andava bene! E quindi noi gli scassiamo il cesso! Sì! Avete capito proprio bene! E l'affronto più grave che si può fare è un padrone di casa! Scassargli il cesso! No, non fatemi un brutto scherzo, ragazzi, eh! Perché io, se mi fate arrabbiare, se mi fate davvero arrabbiare, vi scasso il cesso! E vi rubo la sveglia anche! Sì! E do anche un'occhiata nei cassetti, sia mai che avete 50 euro lì che giacciono da guai... Eccoli 15! Avete cosa vi dico? Io prendo anche 15! Perché non si sputa via niente! Ah, questa è l'uscita, rilasciamo la porta chiusa, non si sa mai! E finiamo di rompere anche i piatti! Vi scasso anche i piatti! Pronto, Vladislavo! Hai visto del lavoretto che ho fatto, eh? Oh no, mi hanno chiamato gli sbirri! Mi hanno chiamato gli sbirri! Gli sbirri! Mi hanno chiamato gli sbirri! E io sapete cosa faccio? Mi ingrippo qui! Zitto come un... Avete presente quei topi di fogna che li vedi e non li vedi più? Eh? Che arriva la mamma e ti dice Ah, ho visto un topo di fogna! Ho visto un topo di fogna! E tu non lo vedi più perché si è celato! Vladislavo mi ha fatto un discorso, mi ha detto che ci serve un'abilità molto importante per tutti i ladri, bla 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 bla, un'abilità che non possiamo non avere. Però noi per prendere questa abilità dobbiamo essere un ladro di livello 2. Al momento noi siamo un ladrello, così miserabile, un pochino triste anche, eh? Che non ha questi poteri! E quindi, per forza di cose, abbiamo bisogno di rubare qualcos'altro. Mannaggia a noi! Ci sarà qualcos'altro che possiamo prendere in questo posto, in questa topaia che l'abbiamo tutta distrutta, per farci almeno i soldi e i livelli che ci mancano? Beh, non voglio rubargli queste robe, questa è spazzatura! Dai, qualche banco nota! Qualche 50 euro! La calcolatrice! Questa è buona! Ah, questa la mettiamo in tasca! Sì, sì, questa è ottima! Oh, un bel manipolo di soldi! 50 euro, signora! Signora! 50 euro tenuti lì nel cassetto delle mutande! Ma questi pregano di essere portati a casa dalla Ion, il ladro gentiluomo! E qui? Un tostapane! Ma signora! Ma un tostapane! Così incustodito! Ma arrivano i ladri! Ai ladri piace moltissimo il tostapane! Gli piace molto tostare il pane! C'è dell'altro che posso rubare, eh? Ho già finito tutto così! Un paio di scarpe, un coniglio orribile! Una radio! Beh, buona la radio! Direi che questa è abbastanza! Abbiamo bisogno ancora di un po' di esperienza per poter comprare l'abilità di Vladislao! Però, purtroppo, mi pare di vedere che qui altre cose da rubare non ce ne sono più! Mannaggia, questo è un vero peccato! Bene, vorrà dire che ce ne dobbiamo andare via! Oh mio Dio, ma io lo riconosco! A lui è una vecchia conoscenza! Fatemi sentire sull'alito fresco! Ok, pussa di merla! Va bene, va bene, ci vado lo stesso! Vladuslavus! Oh mio Dio, quanto mi sei! Ma come sei invecchiato! Oh madonna, come tu sei invecchiato! E il tempo passa per tutti! Lui, ragazzi, era il compratore anche sul primo Tiff Simulator! Tu rubavi un tostapane! Lo dovevi portare da Vladuslavu! Ovviamente! E fratello di Vladislao! Naturale, no? Allora, Vladuslavu, guarda, ti ho portato una sveglia una radio, un tostapane, una calcolatrice Prendi di tutto, guarda Fatti un po' una crema in faccia una maschera rigenerante Sei bruttino, eh! Un abbraccione! Anche a casa, eh! Ma, ciao! Tanto ci rivediamo presto, eh, Vladuslavu! Che qui, ovviamente adesso noi il Tiff Simulator Prologo ce lo giochiamo tutto godendone anche godendone perché è bellino forte però, quando uscirà la versione definitiva voi dovete scrivermi lasciare un bel mi piace se volete vederla tutta e io ci conto perché a me questo gioco mi piace un casino cioè non lo so, non sono mai stato un ladro, eh che io sappia però c'ha un fascino introdursi non visti nelle case dei poveri innocenti e rubare loro tutto quanto godorioso allora, vediamo un po' che cosa possiamo comprare questo è il negozio per i ladri praticamente qui possiamo comprare sia lavori di gente che vuole per esempio che noi uccidiamo qualcuno oppure distruggiamola la casa eccetera eccetera al momento non c'è nessuno e possiamo comprare suggerimenti per entrare con più sicurezza nelle case per esempio vogliamo entrare nel cantiere al numero 100 possiamo comprare informazioni sulla sicurezza informazioni sul bottino sapere quanto c'è da guadagnare lì dentro direi che è una buona cosa anche questa ci sarebbe anche black bay che dovrebbe essere invece una roba per guadagnare soldi cioè se noi troviamo degli oggetti specifici per esempio la padella e la teiera possiamo venderli a più soldi qui su black bay infine su steel gear possiamo comprare gli oggetti che servono a noi per esempio il lockpick per aprire le serrature intanto ci compriamo l'abilità che Vladislao voleva che noi comprassimo evidenziazione ci permette di vedere dove sono le persone tipo un sesto senso no? così riusciamo a capire e lui mi telefona subito pronto Vladislao bene bene ora di scoprire il nostro amico numero 103 va a fare spesa vai vicino a casa sua a spiare lui mentre fa cose 5 del mattino 5 del mattino Vladislao porca miseria ma io alle 5 del mattino dormo eccolo subabou subabou allora lui torna a casa in questo momento e va in corridoio quindi sicuramente fa stretching vedete come fa stretching esce alle ore 7 puoi controllare il tuo diario per dare un'occhiata ai suggerimenti grazie Vladislao adesso impara a aprire le serrature ok e puoi allenarti al tuo rascondiglio ma io non ne ho bisogno io non ho bisogno di imparare niente io so già aprire le serrature sono un grande maestro dell'aprire le serrature ma bisogna essere di livello 3 per fare ciò ciò vuole dire che io devo andare di nuovo a rubare in casa di qualcun altro e in casa di chi vado a rubare vado nel cantiere ma ci sono gli operai quelli men hanno duro sono possenti hanno le bracciaforti non posso andare poi sono le 5 le 6 del mattino sicuramente le persone sono a casa vabbè scegliamo una casa a caso per fare giusto questa esperienza che ci serve con il lockpicking no nel caso ne avessimo bisogno qui ormai siamo entrati 15 volte in casa di questo noi eh cioè vi faccio notare ragazzi noi siamo sempre qui gli abbiamo rotto il cesso la prima volta ma stiamo continuando a sfogarci contro di lui magari ha messo qualcos'altro in casa ha lasciato qualche altro regalino perché noi lo trovassimo potrebbe essere che è una persona talmente gentile che ci lascia sempre qualcosa da prendere la calcolatrice di nuovo l'ha ricomprata l'ha ricomprata ha ricomprato la calcolatrice magari ha ricomprato anche le altre cose mi dai un'occhiattina giusto per essere sicuri qui purtroppo non ha ricomprato niente una pentola ma questo è grande cucagna eh una pentola ma scherzi una pentola c'è chi ucciderebbe per una per una padella è roba di grande valore una padella una di nuovo la sua radio preferita ehi con tanti ok questo è un cretino cioè ti entrano in casa ti derubano e tu ricompri le stesse identiche cose e le rimetti negli stessi identici posti fratello forse forse sei un po' più cretino di noi eh forse forse meriti che ti vengano rubate le cose una decorazione di legno ma questo è roba dell'altro mondo un valore inestimabile nient'altro beh magari magari ha lasciato in giro qualcos'altro altri 15 dollari ma scherzi ma fratello ma tu non hai capito niente della vita di come funziona la vita tu non hai capito niente tu vai derubato una spazzola non posso prenderla cacchio la spazzola mi sarebbe piaciuta quella era un gran valore ragazzi una spazzola vuoi mettere? basta? mi ricordavo qualcos'altro mi ricordavo una sveglia però quella mi sa che non ce l'ha più il balordo quella non se l'è ricomprata ti faceva comodo svegliarti un pochino un barbecue questo non lo posso prendere altri 15 dollari Maroni ma tu sei un benestante ma io mi faccio mi complimento con i tuoi averi grazie a queste cose adesso noi possiamo tornare a Vladislavus e vendergli il tutto e lui ci darà l'esperienza che ci serve per poter comprare l'abilità di aprire le serrature Vladislavus meno male che ci sei tu eh la gente qui non si sa fare i fatti suoi però eh vedo che come mi vedono passare ho capito che è una brutta macchina un po' un ferro vecchio eh però fatti gli affari tuoi che campi 100 anni eh fatti gli affari tuoi e nessuno ti verrà a spezzare le gambe mentre dormi perché hai fatto la spia eh Vladislavus arrivo a casa tua ti darò anche un bel bacio russo Vladislavus proprio sulle labbra a sancire il nostro affarone e poi guarda quanti soldi abbiamo guadagnato eppure valutazione c va bene va bene chi se ne frega l'importante è Vladislare Vladislavus allora vendo tutto pentolame radio tutto quanto eh contento eh finalmente abbiamo raggiunto il livello necessario per essere buoni figli di Vladislavus ok allora vedete che possiamo comprare subito la nostra abilità abbiamo anche un inventario pieno di roba rubata eh però lockpicking quindi finalmente possiamo aprire la porta adesso lui ci telefonerà perché non si sa fare gli affari suoi naturalmente prima di rispondergli però dobbiamo comprare un set da lockpicking 50 dollari ce lo possiamo permettere alla grande e già ci siamo andrei anche qui perché noi possiamo inviare padella e teiera che ho appena preso in cambio 75 dollari eppure un po' di esperienza alla grande alla grande il resto degli oggetti lo andiamo poi a vendere dal signor Vladislavus invece dunque dovremmo avere una serratura di pratica qui per provare vedere se siamo in grado lui ci tiene che noi proviamo io so di essere super bravo questa è la cassaforte questa è un altro livello di skill richiede però proviamo una serratura semplice lucchettino allora fatemi ricordare come si faceva perché 2-3 anni che non lo faccio nel gioco ovviamente non prendetemi per un ladro maledetto attenzione eccolo ok così alle open the lockpick very easy for me rispondiamo chi parla allora tu ora mette lavoro entra numero 103 trova codice per pacco che pacco vabbè potrebbe lui aiutare noi tu devi prendere pacco e se finire tu Grimaldelli usi quick buy dal telefono arriva tizio amazon ti porta tutto quello che tu ha bisogno very nice very nice vladus allora andiamo subito subito dal tuo cugino di campagna perché ho un casino di soldi da vendere devo guadagnare spilorcio dai frumenta le mie tasche allora brutto non hai messo la pomata però eh vabbè fai come ti pare sei avaro però eh tutto sommato noi ce la caviamo bene lo stesso secondo me non dobbiamo avere paura basta non farci sgamare da nessuno guarda a tal proposito sereno come una betulla mi preparo da qui sempre con attenzione eh ragazzi dobbiamo andare bravissimi ci chiudiamo dentro perché così non rischiamo l'intrusione di persone moleste e anche qui dobbiamo aprire lockpickando con grande cautela eh ragazzi con grande ok ok ah ho scazzato questa non ci voleva questa non ci voleva mannaggia a me mannaggia a me mannaggia a me devo usare il telefono devo andare sul negozio come mi ha detto lui ma guarda Teo acquista ne acquisto due ne acquisto porca sozzona me la sono vantata troppo me la sono tirata che ero bravo invece bisogna sempre mantenere l'umiltà eh ragazzi sempre l'umiltà bisogna mantenere cacchio è molto difficile è una è una porta vera questa qui eh abbiamo scassato un altro un altro grimaldello abbiamo rotto eh ah ecco ecco aspetta ah ci siamo quasi ci siamo quasi dai eh dai ma porca ne ho consumato altri ma sono un ladro schifoso per favore ne ho comprato altri forza adesso basta eh apri apriamo sta sta serratura no dai 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 bravo 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 adesso che non ci sia nessuno eh giuliamoci tutte le cose migliori questo testolone scolpito bellissimo di grande valore di grande valore una spizzata veloce nei cassetti ragazzi che potrebbero contenere del danaro ho già visto qualcosa infatti eh questo schedare inutili dei suoi documenti non ce ne frega nulla questo che cos'è niente ok 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 allora qui dentro i soldi sono la cosa più buona che tu puoi prendere perché pesano poco e fruttano tanto il mappamondo pesa un pochino invece eh però noi non ci facciamo troppi problemi prendiamo tutti siamo ladri di bocca buona eh non è che lasciamo indietro le cose la pentola la pentola è la passione della cucina e qui in frigo ti posso ciulare la maionese non ti voglio ciulare la maionese sono una persona troppo corretta per ciularti la maionese e qui cos'è questo ho visto qualcosa qui adattatore usb viviamo ancora indietro nel tempo usb ma cos'è ormai eh la tecnologia mamma mia cosa sto dicendo non lo so sono distratto dal rubare c'è altro non c'è altro sta a casa mi aspettavo tutta la fatica che ho fatto per entrare speravo di trovare qualcosa in più eh la sveglia è buona eh ma nel cassetto una chiave ok così non dobbiamo più sbatterci per entrare quanto pare il tizio era un matematico gli piaceva fare le formulette magiche lì come un matto e abbiamo le coordinate del deposito il codice di questo deposito che noi dobbiamo aprire 16 16 1 ok perfetto va bene vladus sarà contento eh poi qualche altro euro che noi portiamo a casa naturalmente non lasciamo indietro niente direi però che forse è il caso di tagliare la corda eh la casaforte aveva questo tipo ma non possiamo aprirla perché serve di essere più bravi ancora nel lockpicking mannaggia a noi e allora direi che abbiamo preso tutto il vino il vinello mmm goloso ghiotto e le cuffie mmm golose ghiotte l'estintore non ce lo possiamo rubare sembrerebbe di no allora direi che ci possiamo accontentare eh ora dobbiamo prendere il pacco dal paccomat il paccomat e che cacchio è il paccomat che cos'è il paccomat eh una specie la busta delle lettere cos'è il paccomat oh no ce l'ho sul telefono il paccomat si codice paccomat ok 1616 dovrebbe essere dovrebbe essere questo no l'inquilino ci ho sgamato eh mmm mi sa che è meglio tagliare la corda eh il codice del paccomat lo prendiamo dopo prima di tutto secondo me conviene sciacquarsi con grande attenzione che c'è la polizia e c'è la polizia mamma mia mamma mia non mi hanno beccato però eh perché non mi hanno visto in faccia credo quindi tecnicamente possiamo andarcene via tranquilli e andrei dritto dritto al banco dei pegni che ci ammanziamo un attimo con vladus però grande performance perché ce la siamo cavata benissimo abbiamo stravinto abbiamo guadagnato un voto di A niente po' po' di meno con un sacco di roba che abbiamo rubato che adesso andiamo a vendere subito a lui possiamo comprare anche l'abilità 2 di aprire le serrature quindi possiamo diventare super bravi e aprire la cassaforte del tizio quello lì dentro c'ha roba di valore allora prima cerchiamo di aprire sto codice ora che almeno non abbiamo nessuno e ci corre dietro mi sa mi sa che ho trovato il paccomat è questo distributore qua quindi io devo entrare qua e mettere il codice che è 16161 ok 16161 è vero un pacco misterioso vladus lavus ho comprato il pacco ah grande inviammelo da black bay ci sono cose che faranno felice il crimine non vuoi lavorare con loro ma l'hai già fatto e questo è l'unico modo per uscirne vivo hai capito sarà meglio perché ti giuro ti ammazzo io se non ti ammazzano loro vabbè vladus cioè anche un po' meno cioè ti ho sempre aiutato sono collaborativo tu mi tratti male comunque ho preso anche un paio di lavoretti eh per arrotondare sapete no per essere sempre sul pezzo uno è facile e dobbiamo fare semplicemente un lavoretto di brutalità dobbiamo prendere un simpatico piedi porco e scassare una finestra ecco qua fatto occhio che non ci chiamino la polizia l'altro è un po' più infido devo dirvi un po' più infido perché purtroppo dobbiamo rompere un nano da giardino e voi sapete che io e i nani da giardino abbiamo un buon rapporto cioè io amo i nani da giardino non vorrei farlo però un lavoro è un lavoro eh quindi andiamo di qua e spacchiamo il nano via bisogna farlo bisogna fare come bisogna fare dove è la macchina toh disgraziato che chiami la polizia snitch che non sei altro via 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 fuoco alle polveri fuoco alle polveri ripeto fuoco alle polveri dobbiamo beccare la strada giusta per uscire dalla città però eh con la nostra vettura andiamo così nha sceriffo pfff eh marammeo beota andiamo a casa e dobbiamo dare il pacco al nostro amico perché a quanto pare questo è un oggetto che lui tiene molto è una roba che gli piace capito se l'è stretta a cuore ci deve essere dentro qualcosa di raro qualche roba criminale però eh abbiamo anche guadagnato un sacco di esperienza con queste missioni di spaccare i nani e le finestre molto bene molto bene e andrei subito ad accontentare nostro amico nostro amico russia black bay altri pacco nero vai perfetto perfetto pronto fantastico ma adesso devi fare ancora adesso tu devi fare tutto perché altrimenti io arrivo a casa tua prende tu e braccio fare snap snap capito imbecile c'è altro pacco da rubare ancora ma allora fatelo te prova manichino nel nascondiglio per provare a rubare da tasca tu devi diventare scippatore facciamo pratica di borseggio sul manichino state ben attenti dunque borseggio borseggio borse borseggio borseggione mamma mia aspetta che non è facile per niente borseggiare bisogna avere la mano delicata cacchio è difficile no ho sbagliato a borseggiare riproviamo il borseggio e qua è complicato perché se sbagli il borseggio ok ora ci sono riuscito ti arrestano capito cioè il tizio si gira ti covori cadimazzate ok adesso vai al 110 borseggia quello che vive lì no no ma ti direi di acquistare alcune informazioni su rob tips per stare più serafico fratello hai capito va bene vado su rob tips allora al 110 ok ho capito tutto 110 ci compriamo tutte le informazioni non bisogna fare economia eh allora finestra del bagno aperta ripostiglio al piano interrato l'inquilino a chiave ok l'inquilino lascia le 16 e torna le 19 questo è importante la vecchia tv in salotto vale molti soldi ok esce alle 16 e torna le 19 ok ok esce alle 16 e torna le 19 quindi noi dobbiamo andare quando lui c'è perché noi dobbiamo borseggiarlo eh certo dobbiamo borseggiarlo al momento sono le 18 ciò vuol dire che se noi andiamo adesso lo troviamo che sta rincasando er puerco lui non lo vedo dovrebbe tornare alle 19 quindi direi che come prima cosa conviene entrargli in casa eh approfittando che ora non c'è nessuno senza rompere troppi grimaldelli però eh perché altrimenti poi lo sapete cosa succede ecco ci hanno visto mannaggia mannaggia ci hanno visto mochiamano la polizia porca miseria questa non ci voleva questa non ci voleva eh quel cretino ci ha visto e non credo sia nemmeno lui eh perché non è in casa lui cioè possiamo uscirne serenamente eh in realtà possiamo uscirne serenamente ci basta nasconderci basta trovare un posto dove ficcarsi e non farsi vedere no cioè c'è anche tanta roba da rubare qui dentro però è un peccato mannaggia è un peccato ci abbiamo visto così in fretta dove mi posso imboscare mi hanno taserato porca sozza no Lupin è stato preso per colpa di un di uno snitch qualsiasi del vicinato sapete cosa vi dico per il momento me ne vado a schiacciare una pennichella da ladro perché per oggi ho gettato la spugna lui è lì ma è ben rinforzato il bastarlo quindi vi auguro una buona giornata fatemi sapere se volete vedere il continuo di Tiff Simulator 2 e per oggi Lion out